Sono Renisa Cincelli, insieme abbiamo un olegio di bici e di bike a Pozza di Passa e quest'anno offriamo anche le e-bike per la mobilità inclusiva. Sono Claudio, papà di Mattia e adesso partiamo. Sono Katia, la mamma di Lisa, adesso siamo pronte per un giro inciclabile. Io a casa ho anche le e-bike, però anche questa soluzione è molto più divertente. Molto bello e molto divertente. Ciao! 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 Ciao!